Buon salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Innanzitutto consentitemi di fare i miei migliori auguri per il 2019 appena iniziato. Le ho fatti sul mio canale Telegram a tutti coloro i quali sono iscritti. Potete iscrivervi gratuitamente anche voi all'interno del canale pubblico notizie e adesso ho iniziato a pubblicarle con una certa assiduità inerenti all'ambito aeronautico e ho approfittato anche ovviamente per gli auguri di un buon 2019. In questo video desidero parlarvi dell'ultimo raduno che c'è stato a San Dona di Piave il 24 novembre dell'anno scorso ormai 2018. Mi scuso per questo ritardo nel pubblicare questo video purtroppo riesco a farlo soltanto adesso. Il raduno di novembre come tutti gli altri raduni è stato davvero fantastico. Ho avuto la possibilità di conoscere molti di voi, di poterci anche volare al simulatore e so che molti di voi hanno fatto una bellissima esperienza ai simulatori di Airbus A320 e dell'MD80, un simulatore abbastanza introvabile. La struttura è stata veramente ospitale, anzi se vi trovate da quelle parti vi invito a passare, trovate in descrizione tutti i link e gli indirizzi ovviamente per poterli raggiungere e hanno due simulatori davvero fantastici. Il simulatore dell'MD80 è fatto da veri pezzi di MD80 quindi sembra davvero di stare all'interno di un aerovero. I suoni, le immagini e anche il contatto con tutta la strumentazione di volo è veramente qualcosa di indescrivibile. Come anche il loro simulatore di Airbus A320 che è davvero ben fatto, sembra anche lì di essere all'interno di un aerovero e quindi se vi trovate da quelle parti io vi invito a passare. L'evento è stato davvero bello perché molto ben organizzato, devo dire in questo caso abbiamo evitato un po' la ressa che di solito si crea ai simulatori e ho avuto anche tanto tanto tempo per parlare con voi, per scambiare davvero opinioni, mi avete fatto tante domande, vi ho potuto anche far vedere a un simulatore in costruzione, come si effettuano alcune procedure ed è stata davvero una bella bella giornata. Quindi ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, come sempre ringrazio i ragazzi di VIG, Italy ETC Control che hanno consentito lo svolgimento di questa giornata in maniera appunto così bella e perfetta come è stata, come anche ringrazio tutti coloro i quali mi hanno fatto davvero percepire la loro vicinanza con email, messaggi, ringraziamenti dopo l'evento e queste cose sono davvero il motivo che mi fa andare avanti. Sappiate che per questo 2019 ci saranno altri eventi, non so ancora dove, non so ancora quando, però certamente la voglia di organizzare altri eventi dal vivo con voi c'è. L'idea è quella anche di portarci su posti un po' più aperti in modo tale da poter passare insomma una giornata insieme, magari perché no anche con il pranzo da qualche parte o una cena. Quindi ci saranno degli aggiornamenti anche perché il canale sta crescendo tanto. Quotidianamente ricevo email di persone che mi dicono vieni qui, vieni qui, facciamo un evento da questa parte, da quest'altra. Io davvero non ho problemi o pregiudizi a fare eventi da nessuna parte per cui scrivetelo anche nei commenti, anche perché tra l'altro il buon Remo con anche Fabio sono molto abili a trovare delle location e a organizzare degli eventi in maniera davvero fantastica, come tutti gli eventi che abbiamo fatto nel 2018. Quindi ci saranno altre occasioni per incontrarci dal vivo e non vedo l'ora davvero di incontrare ciascuno di voi. Per il momento però desidero anche mostrarvi alcuni doni che, come spesso avviene nei raduni e con mia immensa gratitudine, ho ricevuto da parte di chi ha partecipato. Roberto trovò che già l'altro raduno che facemmo a Vicenza mi regalò una serie di aeroplanini con cui sto costruendo un qualcosa di abbastanza divertente e bello, che sicuramente sarà pronto in breve tempo, che vi potrò mostrare. Tra l'altro qualcuno di questi aeroplanini si trova qui sulle mensole, c'è l'MD11 di Alitalia e il Concorde con la livraire British Airways, in questo caso mi ha regalato questo modellino in scala 1 a 200, suppongo che sia, forse anche di più, di un Eurocopter, molto molto bello e ben fatto, oltre che questi modellini che servono appunto per realizzare i plastici degli aeroporti e che sicuramente saranno molto molto utili. Si trovano appunto qui delle scalette di Marshaler, tutti i servizi che ci sono nell'aeroporto, insomma è un kit veramente molto molto pieno, non sono solo questi, vi mostro questi ma perché ce ne sono davvero tanti, quindi ringrazio davvero Roberto Trovò, che tra l'altro mi ha fatto dono anche di questo libro e di un altro libro in cui insomma ci sono delle raffigurazioni delle storie di aerei, in questo caso di aerei da combattimento, nell'altro libro ci sono anche aerei civili, insomma sono libri davvero molto completi, ci sono illustrazioni, immagini, descrizioni e sono libri veramente interessanti. Un ringraziamento a Roberto che ogni volta che mi vede, oltre a ricoprirmi di complimenti di cui veramente lo ringrazio, mi riempie anche di tutti questi oggetti che sono davvero particolari e che io davvero ringrazio per questa sua così grande generosità. Enrico inoltre mi ha regalato questa t-shirt, ora fa un po' freddo devo dire dove registro per poterla indossare però è una t-shirt che ha realizzato lui, lui le stampa, le realizza proprio e appunto Mind Your Attitude con l'indicatore di assetto, giustamente il mio strumento preferito quindi veramente una maglietta molto bella, non vedo l'ora che faccia un po' più caldo per poterla indossare anche nei video del canale, quindi grazie ad Enrico. In più non c'entra con l'evento di Sandona di Piave però volevo ringraziare Roberto Sale perché ci siamo incontrati per pochi minuti durante l'intervista alla De Bernardi, anzi vi invito a vederla l'intervista se non l'avete già vista, mi ha fatto dono di questo DVD, all'interno c'è un video realizzato proprio in un 737-300 della compagnia aerea Go che mi sembra sia o fosse una low cost di British Airways e c'è proprio il video all'interno con parecchie telecamere, molto bello e me ne ha voluto far dono quindi volevo ringraziarlo in questo video perché ovviamente non c'era altra occasione per poterlo fare. Bene adesso vi lascio le foto dell'evento a Sandona di Piave che sicuramente descrivono molto meglio di me l'evento che c'è stato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie come sempre per aver visto questo video, se vi è piaciuto vi invito a mettere mi piace, se avete dei dubbi, dei commenti o dei suggerimenti commentate sotto questo video, sotto gli altri video e cercherò di rispondervi il prima possibile. Passate anche dal mio gruppo di Telegram dove a intervalli abbastanza regolari adesso pubblico delle notizie, delle curiosità inerenti all'ambito aeronautico. Sempre vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a un prossimo video.